E' irregolare il 14% degli studi di medici di famiglia e pediatri convenzionati, è quanto emerge da una serie di controlli effettuati dai carabinieri del NAS in tutta Italia, di concerto con il Ministero della Salute. 1838 gli studi nel Mirino, 251 sono stati giudicati non conformi. 308 invece le irregolarità penali e amministrative riscontrate. Sono due le situazioni più gravi in provincia di Catania e a Reggio Calabria, dove sono stati emanati due provvedimenti di sospensione per mancanza di abitabilità e allestimento di altre attività mediche non autorizzate. Le irregolarità più frequenti, pari al 65% delle violazioni contestate, hanno riguardato carenze igienico-strutturali degli ambienti destinati alle visite, come la presenza di attrezzature non idonee all'uso medico, impiego di locali diversi da quelli dichiarati o privi di sufficiente areazione. Dei feriti all'autorità giudiziaria 51 tra medici e figure amministrative. Tra questi, tre camici bianchi sono ritenuti responsabili di aver ricevuto rimborsi per prestazioni mediche domiciliari o in case di riposo in realtà mai effettuate. Durante i controlli sono state sequestrate oltre 650 confezioni di farmaci scaduti. Grazie a tutti.